Clio Zammatteo, imprenditrice conosciuta sui social come Clio Makeup, non ha trattenuto le lacrime rispondendo ai suoi follower in alcune storie Instagram. Come stai? Ormai ti vediamo poco nelle stories. È stata una delle domande che come risposta ha trovato lo sfogo commosso volto a raccontare il periodo non facile che straha. La verità è che forse l'ultimo anno è stato il più difficile della mia. Sto passando un periodo di me e mi butto a capo. Sono un po' triste ma cerco di non farlo vedere. Rispetto al motivo di tanto sconforto, Clio non è stata tanto precisa. Preferendo rimanere sul vago, non è facile. Si tratta di un mix di tantissime cose accumulate nel rispetto al motivo di tanto sconforto. Sono cose molto. L'imprenditrice seguita su Instagram da 3,5 milioni di utenti ha poi parlato della sua dieta e ha spiegato di aver ripreso a fare sport in un periodo segnato dal Fortest. Infine non sono mancati i ringraziamenti per il supporto sempre ricevuto da quanti la seguono su social. Grazie perché mi date la carica positiva. Mi ricordano che questi momenti sono normali. Fanno parte della vita e passeranno. Non è la prima volta però che Clio si mostra così sconfortata. Esattamente un anno fa Zammatteo aveva raccontato sui social di non sentirsi più a suo agio nel mondo del bio.